Maier di Monaco la battuta, via la partita Si muove Aspicueta Ramirez Si spintonano per recuperare la palla Calcio d'angolo per il Bayer di Monaco Era un tiro potente e ben indirizzato ma il portiere non si è lasciato sorprendere Ha visto partire la palla ma è stato bravo a non lasciarsi comunque ingannare dalla traiettoria del tiro Intervento di pugno del portiere Attenzione rete Molti tivosi sui rispatti con le mani tra i capelli dopo questo gol In caso di sconfitta infatti la loro squadra sarebbe estromessa dal discorso promozione Non devono disperarsi, c'è ancora tempo per rimediare Basta rimanere concentrati e non perdere la testa Un gol fantastico, praticamente da casa sua Un gol pazzesco Fabio, gli hanno lasciato troppo spazio per tirare e lui li ha puniti Una rete che palla da sola il prezzo del biglietto Un siluro che ha sorpreso tutti, portieri compreso E rivediamo questo gol da un'altra angolazione Gommata Ivanovic Oscar Porta palla verso l'aria Ha interrotto l'azione con un intervento di retempestivo Palla che termina lontanissimo dai panni Vai tu Ha interrotto la trama avversaria e ha recuperato palla a centro campo Con il tacco Ha riconquistato palla con un intervento prodigioso Si fa sotto Il tira era molto potente Ma non abbastanza per superare il portiere E ormai in zona d'attacco David Luiz Ha provato a crossare, non c'era nessuno in mezzo Ha sbagliato Oscar Vedi il compagno libero Cahill Ramirez Kahill Triangolo Passaggio spettacolare Attenzione Tiro bloccato Bayer di Monaco tiene un calcio d'angolo Angolo battuto davvero male E' intervenuto sulla palla dimostrando un'ottima visione di gioco e senso della posizione Bastian Schweinsteiger Ramirez Giocata spettacolare a servire il compagno Intercettano palla a centro campo interrompendo la manovra avversaria Ribery E' in grado di saltare l'uomo come pochi Manca la conclusione a rete Stanno giocando in condizioni impossibili Fabio Possiamo apprezzare nuovamente la giocata con cui si è liberato del proprio marcatore Un colpo da maestro che vale da solo il prezzo del diglietto Asà Si fa avanti il Censi Potrebbe grossare Mata A tempo e col piede C'è il cross Ribery Manciukic Con Mata E' stato bravo ad intercettare quella palla Non era facile Ribery E si oppone il tiro Con Mata Riconquistano palla con questo tecno Asà Un cross impreciso Bastian Schweinsteiger Müller Occasionissima Prova a tirare in porta E il portiere para Pur essendo spiazzato Corner per i Bayer di Monaco E potevano battere meglio questo caccio d'angolo Cerca la rete La promozione rimane lì a pochi punti Ma questa partita ormai sembra compromessa Mi chiedo se avranno la tenacia per recuperare più di una rete Pur se il portiere si è fatto ingannare dalla neve Non è certo facile giocare in queste condizioni Fabio Un gol che merita di essere rivisto da un'altra angolazione Grazie a tutti Ramirez Ivanovic Ramirez Ramirez Supera l'avversario Müller Contrasti scivolata Ha rischiato parecchio in questo campo Ha cercato lo spunto per andare via ma la palla è uscita Mi vanno amici Grande tiro Ed il collone entra È gol E gol Vedete la gole ad on questa E tuo è di sicuro un grandissimo giocatore Comperizia Palla che carabola fuori, corner Angolo gettato al vento Oscar Ha intercettato il passaggio ma Il verdetto per loro al termine del primo tempo è impiedoso Se la partita finisse ora non sarebbero promosse Ci si attende una ripresa infuocata Cosa ti aspetti dal secondo tempo Beppe? Mi aspetto un secondo tempo molto intenso E toccherà al Chelsea dare via a questo secondo tempo Ivanovic David Luiz Goods Oscar Il Chelsea prova a rendersi pericoloso Si fa largo, prova il tiro Calcio d'angolo per il Chelsea Angolo battuto davvero male Mata Conclusione da dimenticare Si d'altronde con questa neve la palla diventa incontrollabile Poi quadrare la porta Pinta Gol Panernetti È un portiere però non può permettersi simili cali di concentrazione E rischia di compromettere il lavoro di tutta la squadra Così Quando si prendono gol la fiducia nei propri mezzi viene a mancare Ed è quello che sta succedendo oggi a questo portiere Ecco il dato relativo al numero di conclusioni verso la porta Ivanovic Si gioca per il vantaggio Attenzione potrebbero crossare Aveva concesso il vantaggio l'arbitro Ma ora giustamente fischiato Ha esagerato nello strattonare il proprio avversario Sperando di passare la liscia Il direttore di gara invece lo ha punito Cerca di giustificarsi dicendo che si sono strattonati a vicenda Ma è stato lui il primo a cominciare Attenzione Debbono ringraziare il palo E il portiere si è proprio della palla Tenta di portare di via il pallone Aspicueta Pallone riconquistato in attacco Buona occasione Non è solo Può servire il compagno Oscar Hazard E l'arbitro lascia giocare Si ha concesso il vantaggio Fabio E' riuscito a interrompere la trama avversaria con un facile intervento Grupo palla all'avversario E' riuscito a interrompere la trama avversaria con un'azza E' riuscito a interrompere la trama avversaria con un'azza Prova ad andare via E la passa di testa Ottimo intervento ora la palla Passa con il tacco Ramirez Ramirez Mandzukic Heinz Müller Müller Gli avversari riconquistano palla Supera l'avversario Prova a intervenire scivolata E' stato bravo a intercettare quella palla Non era facile Thomas Müller Chi è il proviso E' riuscito ad artigliare un pallone tutt'altro che semplice Götz Robben Prova un barco Prova a sorprendere il portiere E qui vediamo quanto sia difficile giocare sotto una neve Si, ne è uscito un pessimo tiro Ma su questo campo tutto diventa più difficile Panmata Lam E tu Riesci a fermare l'azione Lille Ha energia da vendere Il suo atletismo lo rende uno dei pilastri di questa squadra E tu Götz La partita sta finendo e sono sotto di più di una rete Non credo proprio che da questo incontro Gli arriveranno i punti necessari per ottenere la promozione Caccio di punizione per il Bayern di Monaco Molto calibrato il calcio di punizione Il portiere però è riuscito a bloccare la palla Ivanovic Ivanovic Miller Con il tacco Ramirez Accelera tu Robben Prova un barco Ancora quattro minuti alla fine Ecco il tiro Traversa Manciukic Manciukic Panmata Palla che carambola via Parte il cross E il cross viene intercettato E con questa sono la terza sconfitta di fila Così non va più Devono spezzare questa serie negativa Anche se non sarà facile Grazie per aver seguito questo incontro con noi Arrivederci al prossimo appuntamento calcistico Grazie 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 Grazie